Benvenuti amici di Yoke Watch Italia Finalmente c'è una buona notizia È appena uscita la beta giocabile di Yoke Watch Medal Wars Lo vedete proprio qua, guardate E in questo video vi faccio vedere come poterlo scaricare per Android Perché per Android? Per Android perché io purtroppo ho solo Android Quindi riesco a farvi vedere solo questo Allora, è una cosa davvero davvero semplice Premetto che io ho fatto la pre-registrazione Non so se è necessaria Perché non sto andando a scaricare il gioco tramite lo store ufficiale Ma tramite questo fantastico programmino che si chiama QoApp Sicuramente lo conoscete perché ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto il video per scaricare PuniPuni E vabbè io ve lo faccio vedere Si chiama QoApp Voi dovete semplicemente scaricare Probabilmente sotto Medal Wars Cercate Medal Wars Tellery, il primo, Medal Wars Io avevo fatto pre-register Ok? Nei giorni scorsi, non so, forse un mesetto fa Non mi ricordo quanto tempo fa Ma non credo che ci sia bisogno Perché da oggi, da mezz'oretta, da un'oretta C'è la possibilità di scaricarlo Tramite questo OBT Ve lo faccio vedere qua nel centro A posto di Open ci sarà scritto tipo Download Voi lo scaricherete E semplicemente lo dovrete installare E basta Probabilmente vi chiederà di abilitare l'installazione da Come cacchio si dice Da sorgenti sconosciute Ragazzi sicuramente questo video sarà senza tagli Perché tra poco vado a lavoro E volevo farlo il più velocemente possibile Per farvi giocare a voi Praticamente Torniamo a Bomba Lo scaricate Fate Open E basta E giocate Cioè veramente, veramente semplice Probabilmente per iOS era necessaria La pre-registrazione Ma non ne ho idea Non ne ho idea Ragazzi Io credo che Cosa ho schippato? Ah però Ci fa scaricare 482 MB Cioè Presa diretta con voi Probabilmente nei prossimi giorni Lo porterò in live Ma non ne so Non lo so ancora Non lo so ancora Dipende dal lavoro Nel frattempo La mia ragazza mi scrive Io direi che Carico il video a cannone Ci metto magari la musichetta di sottofondo Come al solito Perché se no è un po' triste Vi chiedo sempre Di lasciare un bel like Di supportare il canale Di iscrivervi Se non vi siete iscritti E ragazzi Buon divertimento Bella lì Poi scrivetemi nei commenti Che cosa ne pensate Alla prossima Ciao ciao Ciao